Amici del mio viaggio New York, oggi vi faccio un bel video notturno, sono circa le 10 e ce ne andiamo a Times Square. Io abito vicino a Times Square, quindi per me fare una passeggiata è abbastanza facile. Times Square è come dire a Roma, a Bola, Fontana di Trevi, c'è proprio il posto più turistico in assoluto, illuminato a giorno, quindi mi fa piacere portarlo. E intanto come sempre parlo, parlo un po' a caso, ho notato che questo format di me che parlo senza mostrare il mio viso piace molto. Insomma ho notato che molta gente poi dice la parola finale perché vuole farmi sapere che ha visto il video tutto. E' bello, io parlo e guardate New York in 4K, penso che sia una cosa bella. Oggi parliamo di diversi e tanti argomenti. Parliamo di cosa vogliamo parlare ragazzi, dobbiamo deciderlo un po' assieme mentre la città scorre ai nostri lati. Io parlerei oggi di un argomento molto interessante, cioè il fatto che rispetto a quando ho iniziato io nel 2000, io ho iniziato su Facebook ad avere successo nel 2014. Nel 2014 ho aperto una pagina Facebook e questa pagina ovviamente all'inizio mi resi conto subito che aveva successo perché già nella prima settimana cresceva in maniera molto molto vertiginosa ma soprattutto mi avevo reso conto che la gente mi chiedeva informazioni. Quando io ho aperto la pagina Facebook, adesso negli ultimi anni la pagina Facebook è soprattutto video, ma all'inizio io mettevo solo delle foto e un testo. Mi attribuisco diciamo il merito di saper scrivere bene. Quindi vedi che la gente mi chiedeva informazioni e da là poi ho iniziato ovviamente a creare il tuo operetto. Sicuramente il boom c'è stato quando ho iniziato a fare i video su Facebook, poi i video sono stati premiati in un primo momento, poi penalizzati, poi premiati di nuovo. Però io ho vissuto sui social un'epoca diversa. Io dico sono stato un pioniere, perché quando io ho iniziato a fare i video su Facebook e facevo i video della pizzeria e facevo i video di quello che faceva il cappuccino con l'uovo dentro, davvero c'ero solo io, non c'era nessuno che lo facesse. Su Facebook eravamo pochissimi, qualcuno c'era su YouTube, però se andiamo a vedere ero stato proprio uno dei primi a raccontare tutto questo. Ovviamente adesso la situazione è assolutamente cambiata. Il mondo dei social in soli otto anni si è avvisto moltiplicarsi, credo, soprattutto dopo la pandemia. Non so tra l'altro se avete visto anche sui social quanti persone copiano, imitano anche il format del mio viaggio a New York utilizzando poi anche lo stesso nome. perché ovviamente rispetto all'inizio dove c'era solo io, come è normale che sia, ci sono moltiplicati i creatori di contenuti, soprattutto su TikTok. Adesso gran parte di coloro che fanno contenuti di viaggio, all'inizio c'era io da New York, c'era Human Safari, no? Mi ricordo, eravamo proprio pochi a farlo. Adesso se vai su TikTok, giustamente, le nuove generazioni fanno continuamente, totalmente video. Poi TikTok è una piattaforma che spesso ti dà una visibilità momentanea perché l'algoritmo tende a dare qualche minuto di celebrità a tutti. Ma qual è la grande differenza tra me e la maniera in cui ho condotto i social è un creator che nasce oggi su TikTok o nasce oggi in questo nuovo mondo dove i social sono pieni di contenuti. Cioè all'inizio, quando io facevo il video di una pizzeria, la cosa era rivoluzionale, nel senso che non lo faceva nessuno. Adesso non solo lo fanno tutti, ma anche le pizzerie stesse sono diventate protagoniste. Quindi che io vada a fare una video nella pizzeria non cambia molto. Però la differenza sostanziale qual è? Ed è questo che lo dico come consiglio a chiunque voglia gettarsi sul mondo dei social. E che non è tanto il contenuto che crei in sé per sé, la cosa importante, ma la capacità di creare e di strutturare un'impresa che sia anche indipendente dei social. È là che io mi attribuisco il vero merito. Il mio vero merito non è stato, secondo me, io analizzo molto spesso la mia storia, anche perché poi il caso del Mirage New York è diventato anche un caso studio per la London School of Economics. Se scrivete il professore Paolo Taticchi, scrivete più armenti, vedete c'è tutti i case study, c'è proprio il case study online dell'università. Quindi il merito che io mi attribuisco non è tanto l'aver fatto contenuti, ma l'aver costruito un'impresa solida. E' questo, secondo me, il vero valore. Ed è questa la cosa che sfugge a queste persone che sono nuovi ragazzi, con te in credo. Perché? Perché si trovano, ovviamente, probabilmente anche in un'epoca diversa. Nel senso che io, quando ho iniziato, neanche era molto facile avere le imprese che ti dicevano ti do dei soldi, fammi pubblicità. Adesso è probabile che un creator su TikTok, su Instagram, riesca a contrattare, visto che le imprese sono più abituate a questo mondo digitale, riesca a contrattare di più e a vivere, io ne conosco qualcuno, con le imprese che ti fanno pubblicità. Fammi un reel pubblicitario, fammi un TikTok pubblicitario. Il problema di questo tipo di modo di guadagnare è che è molto fragile. In che senso è fragile? Nel senso che è troppo legato al social stesso, alla tua presenza social. Cioè, se scompare il social, se tu perdi l'entusiasmo, se dopo un po' ti stanchi, tu hai difficoltà poi a guadagnare soldi. Quindi, la mia forza è stato questo, proprio perché è a vivere un altro tempo dove non era possibile per me vivere con le pubblicità, perché non c'era la mentalità. Io ho dovuto creare un'impresa solida, un'impresa solida di turismo, che adesso è a Times Square, c'è la gente che lavora, ci sono i Pullman, ci sono gli Urban Explorer, perché noi le nostre guide le chiamiamo Urban Explorer, no? E questa impresa solida è indipendente da me. Cioè, io ho utilizzato i social per spingerla, per farla nascere, ma una volta che questa impresa è riuscita a conquistare il monopolio, perché a New York abbiamo il monopolio, anche se io faccio un passo indietro, avrà la solidità i fondi per trovare altre strategie di marketing che possano anche prescindere da me. Io faccio sempre l'esempio, domani mi stanco di stare sui social, può succedere, ma avremo la forza economica di cercare nuovi giovani già fermati nell'ambito del turismo, con i video ovviamente, e farli i nostri ambassador. Cioè, la forza sui social, e questa lezione che ho do, se voi siete sui social e siete all'inizio, la cosa importante e fondamentale, lo dico per tutti i ragazzi che mi seguono, è che voi utilizzate i social, i social vi danno esposizione perché siete bravi, ma questa esposizione la dovete convertire, la vostra community, così chiamiamola, in un'idea di business, cioè in qualcosa che sia vostro, che abbia un valore intrinseco, indipendente dai social e della vostra figura. La gente che viene in agenzia, molti ovviamente mi conoscono, ma molti non sanno neanche chi io sia, cioè non è che tutti i miei clienti sono miei fan, se no sarei morto di fame, diciamo così, perché i numeri, noi adesso ad agosto abbiamo col tour del Bronx, Queens e Brooklyn, anche 160, 170 persone, 4 pulmi, ma non sono numeri bassi, e mica sono tutti fan, ci sono molti fan ovviamente, altri però, molte delle persone che vengono da me hanno conosciuto la mia agenzia tramite il passaparola, tramite qualcuno che l'ha suggerita, tramite qualcuno che ha fatto dei tour negli anni passati e si è trovato bene, io poi come dico sempre, mettendoci la faccia sono costretto a fare un buon lavoro, chi lavora per me sa che deve fare un buon lavoro, perché non è che lavora per me, ma lavora per se stessa, perché si sente parte di questo team, il mio viaggio a New York. Vi dico anche un'altra cosa molto sincera, io non percepisco, non sto percependo nessuno stipendio adesso dalla mia agenzia, da quando è iniziata la pandemia ancora non percepisco stipendio, io non percepisco una lira dal mio viaggio a New York, niente, cioè zero, se tutto va bene prendevo i utili a fine anno, ma io prima percepivo stipendio, ma dato che c'è stata la pandemia ho detto ok, adesso che ripartiamo concentriamoci nel far ripartire al massimo l'agenzia, perché valore l'agenzia stessa, poi quando sarà possibile mi prendo lo stipendio, però un imprenditore, questa è un'altra cosa che pochi sanno, che uno dice è vero che l'imprenditore è quello che alla fine fa i big money, però alla fine, e intanto rischia tanto, ma io da dicembre adesso, io non sto prendendo stipendio dall'agenzia, fortunatamente guadagno in altre parti, guadagno in un altro modo, però ecco, quando uno pensa all'imprenditore, se ne fa cosa a Lamborghini, mentre il dipendente soffre la fame, non è vero, prima viene sempre il team, qualsiasi imprenditore, voi non troverete polemiche online su di me da questo punto di vista, qualsiasi imprenditore sa benissimo che il team viene prima di tutto, perché tu devi costruire un'azienda che ha valore, devi costruire valore per i tuoi clienti, e se il team è infelice, è insoddisfatto, è così, tu non costruisci valore, io mica faccio, cioè a me è un lavoro che basicamente si fa col pubblico, no? Però questo secondo me è stata la mia forza, la mia forza è stata senza dubbio, adesso stiamo andando a Times Square, vedete sicuramente moltissima luce, la mia forza è stata sicuramente quella di costruire in un'impresa dalla mia forza social, e questa cosa ero costretto a farla, perché quando ho iniziato, nel 2014, non c'erano tanti altri modi di monetizzare, adesso i video di Facebook si possono monetizzare, ma all'inizio no, adesso se ti presenti un'impresa e gli dici voglio farti una pubblicità social, l'impresa sa di che parli, magari ti dice di te, di sì, ti cercano anche allora, all'inizio no, quindi io per una serie di circostanze ho avuto all'inizio una visibilità tale, ma l'unica maniera di utilizzarla e di monetizzarla era costruire una mia impresa, e mi è andata bene, perché io ve lo dico già, molti di questi tiktoker che fanno viaggi e turismo adesso, non riusciranno se non costruiscono l'impresa a creare qualcosa di solido, saranno per sempre legati al social, alla loro visione social, se si stancano, se non lavorano un mese, se a un certo punto cambia l'algoritmo, se l'algoritmo non ti premia, non ti trovi nulla in mano, all'inizio ti va bene, perché inizi a vedere che arrivano i soldi, qua all'ASF dice, ma devi costruire un'impresa tua, ciao ragazzi, ciao, ma devi costruire sicuramente un'impresa tua, devi costruire un valore che domani se ti presenti a un fondo di investimenti, quello non è che vuole vedere i tuoi numeri social, quello vuole vedere quanto hai fatturato, sono quelle le cose che vuole vedere, quanti clienti vai, qual è il tuo ricavo, insomma c'è una serie di parametri, va bene, stiamo camminando a Times Square, quindi potete vedere la pazzia e la bellezza di questa piazza, mentre io continuo a parlare, e quindi ecco, di questo volevo parlare, io all'inizio veramente, eravamo solo pochi a fare, a fare i social, io lo so perché anche molti di coloro che sono nuovi su TikTok mi dicono Piero ci siamo ispirati a te, però la mia fortuna è stata che io sono riuscito a creare un'impresa e la dovete creare anche voi, continuiamo a pace a moltissima gente come potete immaginare, è veramente un casino Times Square ragazzi, continuiamo comunque a camminare, vi faccio vedere la quantità di turisti che ci sono, poi affrontiamo tanti altri argomenti, parleremo anche delle altre pattaforme Facebook, volevo solo soffermarmi su questo caos assurdo, e guardate, Times Square illuminata al giorno, è qualcosa di unico, di eccezionale, qualcosa che ha un suo fascino, un suo fascino fantastico, tutti i turisti che vengono a Times Square ovviamente, io ogni tanto penso, sai è normale, ogni tanto pensi come sarebbe la mia vita fuori da New York, ma io mi sono talmente tanto abituato a questo caos, a questo stile di vita che dal mio punto di vista sarebbe veramente impensabile, io vivo praticamente nel cuore di New York, è come vivere alla fontana di Trevi, quindi io quando scendo, boom, sono già super immerso nel caos, devo stare solo attento a non farmi buttare sotto qua, perché guardate anche i turisti come stanno, ecco qua, passiamo, tocca a noi, ovviamente come potete immaginare anche sui social sono cambiati molto, nel 2014 quando è iniziato Facebook era il social più importante di riferimento, Instagram era molto di nicchia e c'erano solo foto, però Instagram era proprio agli albori, non era importante come adesso, e TikTok non esisteva, non so se esistesse la sua forma precedente, Vinali, in paesi si amasse così, però TikTok non esisteva, quindi la maniera, l'unica maniera che avevi per avere una presenza social, era fondamentalmente usare o YouTube, che già era una piattaforma video, diciamo importante, oppure c'era Twitter, grosso modo, però poi è cambiato tutto, perché dopo Facebook è arrivato l'età dopo di Instagram, e quindi tutti coloro che stavano su Instagram avevano grande visibilità, adesso è cambiato tutto di nuovo, adesso praticamente io sono convinto che se nascerà un nuovo piovomenti a New York, però poi succederà che qualche ragazzo riesca a fare a New York, a livello di social, no di impresa, a livello di social sicuramente qualcuno riusciva a avere visibilità, cerchiamo di camminare perché ho difficoltà, avverrà su TikTok, adesso chi vuole provare a avere visibilità sui social, ha una sola piattaforma disponibile, perché le altre funzionano meno, ed è TikTok, che è un algoritmo, che ormai io chiamerei neanche più algoritmo, ma l'intelligenza artificiale è tale, che se fai dei contenuti interessanti, questi vengono premiati con una visibilità assurda, pensate a quello che fa i panini, e a quanta gente vede i suoi video, e quella è la forza di TikTok, quindi adesso tutti i nuovi personaggi, pensate anche alla ragazza che parla in corsivo, se vedete tutti i nuovi personaggi, sono, stanno nascendo su TikTok, nessuno nasce su Instagram, su Facebook neanche, ai miei tempi quando ho iniziato su Facebook, c'ero io, c'erano The Giaca, c'era la pagina Il Milanese Imbruttita, eravamo proprio pochi, che utilizzeramo Facebook, ma adesso sono tantissime pagine su Facebook, ma poi ci sono i TikToker, coloro che sono attivi su Instagram, però ora come ora è TikTok senza dubbio, è la piattaforma che ti dà maggiore visibilità, quindi se uno dice, ok, voglio provare anch'io una mia carriera sui social, il mio consiglio è, iniziate amici cari, iniziate da TikTok, utilizzate TikTok, fate video, e sarete bravi, lo ripeto, ci sarà, ah, è un casino, lo ripeto ancora una volta, io sono abbastanza sicuro, che ci saranno poi un ragazzo di 25, 26, 27 anni, che racconterà New York, come io l'ho fatto, poi ogni generazione cambia, racconterà New York su TikTok, e diventerà conosciuto e famoso per la sua generazione, quello che io penso sarà molto difficile faccia, è replicare quello che ho fatto io, cioè, partire da una visibilità social, e creare un'industria solida, una team solido, inserirsi nel settore dell'economia newyorkese, e acquistare una sorta di monopolio, quella è la parte più difficile, che manca a molte persone che stanno sui social, cioè, riuscire, come ha fatto anche, non lo so, Chiara Ferragni, a utilizzare la propria immagine, per spingere la propria impresa, intanto ha aperto il famoso Jolly B, qui a Times Square, questi saranno billionaire Jolly B, devo venire, devo venire a provarli, questa è un'impresa filippina, un fast food filippino, che piace molto, oggi, adoro aver parlato di questa cosa, cioè, di come i nuovi personaggi emergevano su TikTok, e stanno emergendo tantissimi, molti hanno vita breve, altri non riescono a creare un business, ma rimangono legati, sono influencer pur, rimangono legati, cioè, guadagnano con le pubblicità, ora parliamo di un altro argomento, cioè, vedo che c'è molta critica, ultimamente, sul fatto che molti, sì, sì, vai, no, non ci credo, ciao, sai che è la prima volta che vengo a New York, io, prima, vabbè, ci tornerai sicuramente, sicuramente, ciao, ciao, allora, continuiamo amici, sul fatto che spesso si dice che, ci sono molti influencer, che chiedono, di andare a un ristorante, e non pagare, è vero, ci sono molte persone, che chiedono, andare a un ristorante, e non pagare, io personalmente, non l'ho mai fatto, vi dico la verità, è vero il contrario, cioè, che a me personalmente, mi contattano molti ristoranti, per invitarmi a cena, o a pranzo, aspettate che c'è Michael Jackson qua, mi contattano molti ristoranti, per andare a cena, a volte ci vado, a volte non vado, perché non ho voglia, vi dico molto liberamente, ma secondo me, no, se hai un profilo importante, su Instagram, o su TikTok, e vuoi andare in un ristorante, secondo me, ti svaluti, proprio professionalmente, se gli dici, dammi la cena, e ti faccio il TikTok, perché fa un po' la figura, del morto di fame, io credo che, bisogna agire in maniera diversa, tu contatti il ristorante, gli proponi, il tuo media kit, quindi gli fai vedere, i tuoi numeri, e gli dici, io fornisco promozione, se volete la promozione, mi dovete pagare un tot, non dico che, vi devono pagare molto, potete dirgli anche 50, 100 euro, 150 euro, no, però, proporsi come una persona, che offre un servizio, promozionale, ti fa fare più bella figura, poi magari il ristoratore, ti apprezza di più, cioè paradossalmente, il ristoratore, è più probabile, che accetta, se gli mandi un media kit, gli fai vedere i numeri, gli chiedi dei soldi, perché gli fa capire, che ciò che fa, è un valore, piuttosto che magari, gli dici, ti do, dammi il cibo, un cambio di visibilità, magari tu gli dici, guarda, ti faccio, questi sono i miei numeri, ti faccio la pubblicità, mi dai, la mia tariffa è 200 euro, se ti va bene, va bene, magari il ristoratore, ti dice, guarda, purtroppo, non ho quel budget, magari ti dice, no, non sono interessato, però non si mette a insultarti, perché tu gli hai fatto, una proposta pubblicitaria, lui ti dice, non sono interessato, oppure, ti può dire, guarda, sono interessato, ma non, se vuoi, puoi venire a cena, e ti offro la cena, te lo propone lui, io vi consiglierei di rifiutare, cioè, una volta che voi chiedete, ovviamente, di essere pagati, per il vostro servizio pubblicitario, poi se accettate di farlo per la cena, fate un po' una figuraccia, però teoricamente, potreste anche accettare, e dire, ok, va bene, accetto, e vi siete presi, però capito, non fate la figura dei morti di fame, perché è brutto, cioè, io metterò anche in vergogna, di chiedere a un ristoratore, vengo da te, e vengo a cena gratis, no, presentate un media kit, come fanno le persone, le imprese, e dite la vostra tariffa, poi il ristoratore deciderà, se dice di no, e voi quel ristorante volete andare, vi presentate come un normale cliente, pagate, se volete fare i video, li fate, ovviamente, non essendo una pubblicità, potete dare magari un giudizio, anche un po' più sincero, perché il ristoratore, perché il suo ristoratore, ciao, ciao, come stai, bene, come stai, benissimo, ciao, 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 addirittura, di dove siete? di Roma, benvenuti, benvenuti, certo, di notte niente occhiali, di notte niente occhiali, di notte niente occhiali, di notte niente occhiali, grazie, aspetta che, no ragazzi, si è bloccato, ho mandato un messaggio, non ci hai risposto, dove me l'hai mandato, ma il mio personale, ho provato, ma non li vincevo, no vabbè, un gruppone, ciao ragazzi, ciao, chi sei, non sapete chi sono, giustamente, conosciamo New York, da una vita, ma da anni, però, da qualche anno, ho detto, ma guarda che bravo, poi ti seguo proprio, quello che, dicono di te, ciao, 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 stavo facendo un video, un video per strada, no no, pubblico tutti, ma siete tutti assieme, ma tutti una famiglia, no? 5 famiglie, ma non, che caspita di gruppo, complimenti, vai vai, di là dietro, facciamo una foto insieme, vai, ma perché ci parte domenica, da qualche parte, è fatta un cielo, carina, ma domenica, non abbiamo un sacco di, forse siamo sold out, adesso, no, non so il discorso, siete vieni, immagino, sì, abbiamo mandato due mail, d'accordo un po', ma dove? per andare in posti, che non conosciamo, perché noi conosciamo, io sono 16 ore, ma comunque, noi abbiamo l'agenzia, tem square, qualsiasi cosa, basta passare là, dalle 8 alle 7, su tiktok, eh? su tiktok, sì, sì, chi è su facebook, chi è su tiktok, vogliamo fare una foto tutti assieme? dai, taggatemi, se mi taggate la pubblico, facciamo, piemo, piemo almeno, ho capito, capito, ho capito, ho capito, ho capito, ho capito, ho capito, c'è un po' di chiudere, 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 allora manca affatto, dai, ho capito, dai, bambini davanti, così si, dai, aspetta, dai, faccio io, dai, vai, Gianluca, vieni qua, davanti, entriamo tutti, facciamo foto, cosa sta bene, come te salito a sciarra, ma quanti si ha, bellissima questa foto, questa è la pubblica, taggatemi su Piero Armenti, e io la vi pubblico, taggatemi su Piero Armenti, e qualsiasi cosa abbiamo l'agenzia, anche per consigli, qualsiasi cosa, ciao, 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 eh va bene, è un piacere, ciao, ma l'inizio qua in New York? sì, ma all'inizio, dallo Swatch a Times Square, ma l'andano ancora? una volta a settimana, li vendono, ma non ti dico nel giorno, uno deve andare, provare a vedere se c'è la, ciao, 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 ah, benissimo amici, come vedete, ogni tanto succede, di essere fermati per strada, continuiamo a parlare, di ciò che stavamo, di ciò di cui stavamo parlando, e cioè, il fatto ecco, che non dovete svalutarvi, siete giovani, state sui social, avete avuto un minimo di successo, magari nella vostra città, approcciatevi, alle aziende, in maniera professionale, senza messaggi, con cuoricini, ciao, vengo da te, ti faccio rire, ciao, 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 allora, dovete fare, senza messaggi, cuoricini, vengo, ti faccio rire, perché vi svalutate, voi dovete apparire, comunque come persone professioniste, nulla vieta di cercare, di fare accordi pubblicitari, chiamati il ristorante, salve, io fornisco questo servizio, questi sono i miei numeri, questo è il lavoro, come lo faccio, se vi interessa, il mio pubblico pubblicitario, questa è la mia tariffa, il ristorante, non può, umiliarlo, insultare, dirti, ah, se è un pezzente, vuoi mangiare gratis, perché tu stai offrendo, un servizio pubblicitario, può accettare o non accettare, può negoziare, può farti un'offerta, poi vi garantisco, che quando arrivate a un certo livello, non avete neanche bisogno voi, di contattare il ristorante, perché saranno i locali, se fate food, no, poi ci sono tanti altri settori, cioè io vi faccio un esempio, Martina, che è la mia ragazza, ha 120, 121 mila dollari, dollari, scusate, follower su, su Instagram, e la contattano continuamente, imprese, di sciampi, di bellezza, personal trainer, per fare pubblicità, e ti pagano, quindi sono, le aziende, poi, i ristoranti, se vi occupate di food, a contattarvi, e dire, vuoi venire a mangiare da me, ti offro la cena, e là vi potete togliere, la soddisfazione voi, di dire, guarda, purtroppo, se voi che vengono a mangerate, la mia tariffa è 5, 600 euro, il ristoratore, un imprenditore, come tutti gli imprenditori, può decidere, se investire, perché io, vediamo le cose in maniera molto moralistica, eh, mi hai chiesto i soldi, qua no, contrattazione pura, negoziazione, non c'è nulla di personale, voglio fare pubblicità mio legale, bene, mi scelgo 3 o 4 influencer, gli propongo, mi dicono le tariffe, posso negoziare, senza offendersi, perché io, tutti questi ristoratori, che stanno là, offendere, dovete mangiare, sono tutte stupidaggini, però la colpa è anche vostra, che vi ponete male, perché se volete, se volete mangiare gratis, tra virgolette, se quello è l'obiettivo, vi svalutate, dovete offrire, servizi pubblicitari, se no, se quel ristorante, volete andare, non accettate il servizio pubblicitario, potete andare, vi sedete come dei signori, pagate il conto, fate la vostra recensione, onesta, perché quella poi è la cosa bella, se andate, ed è anche la ragione, per cui io preferisco, sinceramente, pagare, piuttosto che essere invitato, a me succede spesso, che quando vado al ristorante, mi invito, ciao, grazie, ciao, ciao, succede spesso, che quando io vado a un ristorante, italiano, magari mi riconosce, il proprietario, e alla fine mi invita, io di solito, non insisto tanto, perché mi, mi stanco, di fare lì le tarantelle, di nomadare, fammi pagare, cioè dico, ah no, non c'era bisogno, grazie, comunque, è tutto buonissimo, è chiaro, che se uno mi invita, la cena, no, anche se una cosa, non mi è piaciuta, mi sento un po' in difficoltà, a dirlo, capito, cioè comunque, anche se qualcosa, non mi è piaciuto, magari uso termini, un po' più dolci, invece, quando andate e pagate, vi sentite anche più liberi, di dire, con educazione, perché io dico sempre, uno va al ristorante, la critica, deve essere sempre, molto educata, del piatto, non bisogna far, essere eccessivi, no, questo fa schifo, questo qua, ma che mi ha dato, questo pesce, non è fresco, no, la critica al ristorante, deve essere una critica, bisogna rispettare il fatto, che dietro, anche un piatto, un piatto può essere sbagliato, dal ristorante, e dietro a quel piatto, ci sono delle persone, che lavorano, ci vivono, ci fanno mangiare i figli, quindi, se sbagliano, a me anche può capitare, che un tour, ha un problema, che magari, durante un tour, un pullman ha un problema, è capitato, è normale, parte della ristorazione, parte di tutte, di tutte le imprese, no, non, non è, qualcosa di così, quindi, tu molto gentilmente, puoi dire, guarda, questo piatto, mi è piaciuto, questo piatto, l'avevi rito più salato, questo non mi ha convinto, lo puoi dire, però è chiaro, che se fai promozione pubblicitaria, a quel punto, non puoi metterti a criticare il piatto, quindi, da un altro punto di vista, io penso, che al ristoratore, convenga, non far pagare una cena, e garantirsi una recensione positiva, no, io se fossi un ristoratore, a me, oggettivamente, se viene un influencer, io, mi metto dalla parte dell'imprenditore, dall'altra parte, se viene un influencer, anche, abbastanza conosciuto, anche io, non lo farei pagare, perché, in questo modo, moralmente, lo costringo, pensate l'intelligenza, a farmi una recensione positiva, a me, non farlo pagare, non è che mi costa tanto, cioè, alla fine, il cibo ce l'ho, non lo butto poi, però, mi garantisco, innanzitutto, mi garantisco, che non mi faccia, magari, recensioni negative, ma magari, mi garantisco, una recensione positiva, anche se, il piatto, non l'ha convinto, io penso, che chi faccia impresa, deve anche pensare, a queste cose, ora, vi parlo anche, di cosa succede, quando, per esempio, ovviamente, io ho un tubo per reto, e veramente, ogni settimana, abbiamo migliaia di persone, quindi, è chiaro ed evidente, che quando ha migliaia di persone, qualche controindicazione, può succedere, no? Può succedere qualcosa, tipo, non lo so, anche, semplicemente, che la persona, la ragazza del mio team, che fa un biglietto, per l'empar, magari, si sbaglia di data, mette una data, a posto dell'altro, la mia teoria, è che bisogna sempre, dare ragione al cliente, nel senso che, ovviamente, se sbagliamo noi, devi chiedere scusa, e magari, essere gentile, offrire anche qualcosa, per il disturbo, che hai creato, perché alla fine, molto spesso, non ci rendiamo conto, quando si lavora, nel campo dell'hospitality, che basta un piccolo gesto, un sorriso, una piccola attenzione, che cambia totalmente, la percezione, della, dell'esperienza, e sono le piccole cose, che fanno i dettagli, come quando vai in una casa, su Airbnb, e magari, il proprietario, che magari non è a casa, perché ha fatto, il check-in automatico, ti fa magari trovare, una lettera scritta a mano, in cui, ti dai benvenuto, e magari, una bottiglia di champagne, sono queste piccolezze, che cambiano la percezione, quindi, per esempio, se ci sono dei problemi, e se, una persona si lamenta, perché magari, io dico sempre, cerchiamo sempre, di accontentare il cliente, ovviamente, può capitare, che ti trovi un cliente, che, ovviamente, chi lavora, nel campo del pubblico, chi lavora col pubblico, sa che può tranquillamente, capitare un cliente impazzito, che dice cose senza senso, fa accuse senza senso, però, nella mia esperienza, vi posso dire, che veramente, succede poco, di solito, quando un cliente, si lamenta di qualcosa, molto spesso, c'ha ragione, è questa la verità, ed è sempre un feedback positivo, per migliorare, perché noi non stiamo là, anche un ristorante, i ristoratori, spesso, gli fai una critica, del piatto, si offendono, la prendono sul personale, iniziano a dire, tu non capisci niente, io so tutto, ma chi sei tu, sbagliano, perché spesso, le critiche, il 90% delle cose, hanno comunque, un fondo di verità, se io vado in bagno, e trovo un bagno sporco, e lo dico in una recensione, a me lo chiedono, cioè, su dieci volte, che lo scrivono, magari uno, può avere esagerato, e se lo può essere inventato, però, gli altri, probabilmente, hanno ragione, cioè, bisogna anche essere molto umili, quando fanno una critica, e tenerne conto, per migliorare, questa è la mia idea, poi, ognuno, ovviamente, fa quello che vuole, ricordate che siamo partiti, ovviamente, dalla, dalla discorso, che abbiamo fatto, sul fatto, che quando uno va, e chiede a un ristorante, di mangiare gratis, sbaglia, perché si mette, in uno stato di inferiorità, ma deve invece chiedere, di fare, una, una pubblicità, e questa, anche oggi, abbiamo parlato di questo argomento, intanto, guardate che bello, ne impara, a me piace, un sacco, parliamo di un'altra cosa, molto interessante, e cioè, di che vogliamo parlare, ragazzi, parliamo un po', non lo so, non ci siete voi, a suggerirmi, degli argomenti, abbiamo detto, che su TikTok, nascerà, che i tempi, sono cambiati, sì, no, parlando sempre, dei social, ripeto, i tempi, sono molto cambiati, io per esempio, durante la pandemia, voi immaginate, la pandemia, mi ha colpito molto, perché io, vivevo di turismo, e ho dovuto chiudere tutto, quindi sono stata, una di quelle categorie, che è veramente, dalla mattina, alla sera, ha detto, e mo', che facciamo adesso, come sopravviviamo, come fa l'azienda, per fortuna, la mia è un'azienda moderna, è un'azienda, diciamo, 2.0, quindi siamo molto leggeri, come organico, automatizziamo molto i processi, quindi non siamo, dei carrozzoni pesanti, ed essere un'azienda leggera, ti aiuta molto, a tamponare, questi problemi, però, chiaramente, molte aziende, più posanti, con tanti dipendenti, tante cose, multiduali, poi, un'altra cosa fondamentale, del mio reaggio a New York, è che, il mio reaggio a New York, non ha avuto mai, un debito, mai, però, immaginate, un'azienda che ha pure i debiti da ripagare, è fatto un investimento, noi, è stata un'azienda, è un caso studio, anche perché, ho iniziato io da solo, tutti i profitti, li ho reinvestiti, e quindi la crescita è stata organica, è anche veloce e organica, utilizzando la forza dei social, quindi, la nostra, diciamo, la struttura finanziaria dell'impresa, è molto, molto solida, perché, siamo stati sempre in attivo, non abbiamo avuto problemi di nessun tipo, non siamo ricorsi mai al debito, e quindi, è stato molto facile, anche la ragione per cui, io adesso, sono tre anni che non prendo uno stipendio, non prendo niente, dal mio ragione, io vivo con altro, però, magari, sai, un'impresa che ha debiti, deve ripagare, cioè, avevi mutuo, cose, è molto più complesso, molto, molto più complesso, quindi, insomma, la pandemia è stata veramente una mazzata, che ci ha atterrato, ma ora sono felice, perché, abbiamo ripreso, non ricordo di che stavo parlando, vi sono sincero, quindi, adesso ho cambiato un po' l'argomento, perché non ricordo dove volevo arrivare, in realtà, però ci siamo ripresi, comunque, New York è veramente bella, qui, per camminare, è veramente piacevole, io dico sempre, io dico sempre una cosa, dico, ok, vieni a New York, no? Io non dico che a New York uno debba viverci tutta la vita, perché, secondo me, questa città va presa anche come una pausa, dalla vita reale, perché, ragazzi, la verità è che a New York non viviamo una vita reale, qui tutto è come vivere in una città che non potrebbe esistere, totalmente diversa da qualsiasi altra città, è veramente incredibile New York, è tutto così accelerato, tutto così verticale, tutto così irreale, anche i prezzi sono irreali, che tu, alla fine, quando ti abitui a vivere a New York, è come se vivessi un altro pianeta, no? Tutti il resto del mondo ti sembra diverso, poi non c'è cosa più bella che vivere a New York e poi visitare il resto del mondo, perché poi ovunque vai, ti sembra che è tutto economico, cioè, quando vivi a Salerno, no? Salerno è una città relativamente economica, non ci sono grossi problemi, cioè mangi con poco, però quando viaggi da Salerno, io ricordo quando vivevo a Salerno, andavo a viaggiare in Finlandia, andavo in Finlandia e vedevo una birra a 12 dollari, 12 euro, o comunque l'equivalente di 12 euro, non so precisamente quanto costasse, e tu dici, mamma mia, è tutto così caro, quindi quando vai in vacanza e percepisci tutto caro, un po' stai stretto, invece quando vai in vacanza e percepisci che le cose sono economiche, ti sfizio, quando vengo in Italia, mi diverto proprio a mangiare ristoranti, perché mangio bene, ovviamente vado in ristoranti che so che sono buoni, perché non è vero che tutti i ristoranti sono buoni in Italia, anzi, devo dire che molto spesso si hanno delle belle fregature anche in Italia, la qualità a volte è pessima, però quando becchi i ristoranti buoni in Italia, è una meraviglia, perché mangi bene e paghi un prezzo che reputi giusto, soprattutto se vieni da New York, oggi sono andato a New York a mangiare in un posto per fare un video, ho pagato un sacco di soldi, in Italia ci avremmo mangiato in quattro, e non mi ha neanche soddisfatto, adesso stiamo salendo sulla Fifth Avenue che di notte è un po' vuota, non c'è nessuno, e allora tu dici, caspita che frega tua, pago tanti soldi e non mi soddisfa neanche, ebbene sì amici, questo è quello che vi volevo dire oggi, mentre stiamo camminando sulla Fifth Avenue, abbiamo affrontato diversi argomenti, e questo è un ulteriore argomento che adesso sicuramente, visto che io mi sono in posto di arrivare a un'ora, dobbiamo affrontare diversi argomenti, affinché sia possibile, parliamo di nuovo dei social ancora, dai, che secondo me, qual è stata secondo me la rivoluzione dei social media, io poi queste cose le studio proprio, ci ho fatto anche durante la pandemia, non avevo nulla da fare, e ho fatto anche un corso su Facebook, un corso su Instagram, un contenuto premium che trovate ancora adesso su, ancora adesso è attivo su piuovamente.com, e ogni mese c'è sempre delle buone vendite, e devo dire che sono felice, perché sono corsi fatti da me, in cui non ho raccontato nulla di teorico, ho detto solo le mie strategie, per fare in modo che la mia pagina avesse un milione di followers, tipo in questo corso su Facebook, se andate su piuovamente.com, ancora è attivo, dico come pubblicare i video, quanto devono essere lunghi i video, quante volte pubblicare, qual è il tema dei video, ah, ecco, una cosa volevo dire, durante la pandemia, ovviamente, io, non avendo il turismo, ho cambiato un po' il focus della mia pagina Facebook, perché non potendo parlare, delle attività turistiche di New York, ho iniziato a fare video di intrattenimento, vi dico la verità, a me fare i video di intrattenimento, su Facebook, non è che mi facesse molto piacere, c'è video magari in cui cucinavo, video in cui magari mostravo cose strane, video, io preferisco fare questi video qua, video in cui io parlo, do un messaggio, racconto, e questo video qua, il video che faccio un po' così di intrattenimento su Facebook, può arrivare l'ultimo degli stupidi, e lo può fare anche lui, anche se è un ignorante, un incolto, una persona che sa solo imitare, però, fare un video del genere, in cui sto nuova, parlo, racconto, con proprietà di linguaggio, do dei consigli, ispiro, questa cosa, per farla devi essere veramente bravo, quindi io preferisco fare questi video, perché questi sono i video, in cui io do il meglio di me, in cui io faccio diciamo il vuoto tra me e gli altri, no? Il video in cui dici, a New York devi vedere l'Empire, devi vedere il One World Trade Center, devi vedere il Rockefeller, questo lo posso fare tutti, perché sono informazioni molto semplici da dare, ma spiegare in un video il senso di New York, perché è importante il cinema in New York, come utilizzare i social media, come approcciarsi, se uno vuole mangiare, grazie a un ristorante, facendo pure, questa, secondo me, è quello su cui io do, un maggiore contributo, però quando c'era la pandemia, non potendo fare video turistici su New York, oltre a fare video, diciamo un po' più profondi, dovevi inventarmi qualche forma, e allora iniziai a fare video un po' più stupidi, tra virgolette, che però alla gente piacevano molto, che li distraevano, e quindi iniziai a fare video, diciamo di cucina, anche io cucinavo, i piatti uscivano male, video in cui provavo cose, questi però sono video molto istruttivi, video in cui io compravo cose al supermercato, e li provavo, perché andare nei supermercati di un paese, ti dà sicuramente molta visibilità, cioè ti fa capire molto di quel paese, e piacciono molto, ho iniziato a fare una serie di video sui pacchi, gli italiani mi mandavano i pacchi, io gratuitamente li aprivo, e facevo pubblicità alle loro imprese, e ho scoperto a un certo punto, ma arrivavano ogni giorno un pacco, io facevo questi video, i video avevano un milione di view, e io lì ho scoperto, quante aziende ci sono in Italia, quante aziende ci sono in Italia, buonissime, che però non riescono ad esportare, perché le persone non ci sono per farlo, c'è un microcosmo di piccole aziende, che se usasse l'esercito di l'arati, che ci sono in Italia, conquisterebbero il mondo, per me è assurdo, che una piccola azienda di qualità, non riesca ad esportare in America, che dovrebbe essere una priorità, se vuoi scalare un po', poi se vuoi rimanere in una piccola azienda, è meglio comunque che esporti in America, perché ci guadagni di più, per me è la prima cosa da fare, esportare in America, quindi facevo questi video dei pacchi, facevo questi video, in cui io magari, acquistavo cose strane, e le provavo, sono molti pazzi, poi è chiaro che adesso, che avrò il presitturismo, ovviamente il focus della mia pagina Facebook, che rimane il canale principale, dei miei social, ovviamente è cambiato di nuovo, cioè, vedrete meno video di me che cucino, e più video di New York, più video in cui io cerco di dare un messaggio turistico, pubblico foto dei gruppi, tipo ho fatto una foto, in cui ho fatto un collaggio di tre gruppi, del tour dei Bronx, eravamo più di, eravamo 150, 160 persone, perché ho cambiato il focus della mia pagina, durante la pandemia, era il mio personaggio, intrattenimento puro, perché i turisti non c'erano, adesso probabilmente, parlo di più di New York, magari faccio meno visualizzazione, perché quando fai intrattenimento, hai un pubblico più vasto, se parli di turismo, tendi a catturare, coloro che hanno voglia di venire a New York, però è quello il pubblico mio di riferimento, perché sono quelli che prevengono in agenzia, quindi probabilmente, ne perdo un po' in visibilità, però ne acquisto tantissimo, per l'agenzia, e il mio obiettivo, è fare in modo che il mio viaggio a New York, sia, continua ad essere l'agenzia leader, qui negli Stati Uniti, quindi vabbè, ho cambiato un po', poi ogni tanto ovviamente, bisogna sempre variare, perché la gente si stanca, tipo, se io faccio un viaggio in Italia, faccio dei video, anche se non c'entro niente su New York, perché mi rendo conto che la gente piace vedere i posti in cui vado, piace vedere la mia interazione con la famiglia, piace vedere anche la mia interazione molto con Martina, devo dire che le donne poi, funzionano sempre un po' di più si socia, perché la loro immagine, attiva di più oggettivamente, l'attenzione rispetto a un uomo, è un uomo, è proprio, è proprio l'immagine dei video, è molto catturata dalla presenza femminile, quindi, quando faccio video su New York, in cui dico, vi faccio vedere come vado sull'Empire, all'inizio piacevano molto, adesso essendo video visti e rivisti, di cui ce ne sono, se andate su TikTok, ce ne sono tanti, una cosa è che ero io uno dei primi a farlo, allora avevo tanta gente che vedevo, adesso invece faccio un ennesimo video sull'Empire, ne hanno visti già tanti, non fai la differenza, però quando fai le interazioni con la famiglia, o con la fidanzata, così invece tu vedi già che il video va molto, molto meglio, questo per dirvi un'altra cosa che secondo me è fondamentale, è veramente centrale, e c'è l'altra cosa che voglio dirvi, è che chiaramente, ovviamente, sui social tutto cambia velocemente, c'è inutile che stiamo lì a dire, a pensare, che una cosa che funziona oggi, funzionerà anche domani, vi faccio un altro esempio molto semplice, adesso vedete video di tanta gente che cucina, all'inizio mi ricordo che c'era solo in cucina con Benedetta, forse Giallo Zafferano, c'erano due o tre pagine, adesso tutti cucinano su TikTok, su Instagram, è una quantità totale di persone che cucina, ci sta un ragazzo che cucina sul terrazzo, mi pare a Roma, chi ti fa la carbonara, chi ti fa, è chiaro che devi sempre cercare, a un certo punto, di inserire un elemento di novità, un elemento innovativo, questa è la cosa fondamentale, perché se non inserisci un elemento innovativo, finisci per non essere notato, io ho avuto la fortuna di essere un pioniere, quindi essendo un pioniere, ho trovato una preteria aperta, qualsiasi cosa facessi, aveva successo, ma tu se vuoi iniziare adesso sui social, non sei più un pioniere, a meno che domani non esce un social superiore a TikTok, tu ti inserisci prima degli altri, e riesci a creare la tua community prima degli altri, però adesso se vuoi fare un video su TikTok, a parte che quel video che si fanno, in cui magari si fanno i meme, si usano le canzonette, le cose, tranne pochi casi, non ti creano una community, la gente lo vede, ma non si affezionano al personaggio, per creare una community, piuttosto che emulare a destra e sinistra, devi fare qualcosa di creativo, tuo, è sempre la creatività ragazzi che viene premiata, poi se vi va bene verrete imitati, ma quelli che vengono dopo, sono sempre degli imitatori che verranno dimenticati dalla storia, quindi quando andate e approcciate sui social, secondo me, non dovete mai imitare qualcun altro, o se vi ispirate a qualcun altro, dovete provare un vostro format, qualcosa di innovativo, io per esempio sono stato il primo su TikTok, a inventare quanto costa questo, quanto costa quello, un prezzo ragionevole, l'ho fatto l'anno scorso, adesso non lo faccio più, perché? Perché dopo un po' la gente comunque si stanche, poi perché hanno iniziato a farlo tutti, tutti hanno fatto, hanno iniziato a fare quanto costa questo, quanto costa quello, e quindi alla fine il tuo messaggio si perdeva, quindi devi sempre continuamente innovare, creare cose nuove, inventarti cose nuove, mai pensare a social come qualcosa di fisso, se no scompari dopo un po', i social sono un mondo molto mobile, io poi vi dico all'Italia, non ho neanche tanto la necessità di creare più di tanto, perché io fortunatamente ho consolidato la mia immagine, per esempio questo format che sto facendo a New York, è un format che faccio solo io di italiani a New York, è un format fantastico, mi piace, magari non faccio un milione di view con questi video di YouTube, però è un format verticale, un format che ti lega tanto a una persona, che magari te lo vedi un'ora, è un format dove do dei messaggi, magari non ci vendo tu con questo format, però sui social creo qualcosa, che dà secondo me autorevolezza alla mia immagine, anche se conquisto una nicchia di persona, è per me importante l'autorevolezza anche dell'immagine, poi ripeto, non ho bisogno, non ho bisogno tanto di innovare, perché ripeto, il mio focus è ovviamente pubblicizzare le mie attività, quindi principalmente mi regge a New York e Jerry America, che si occupa di snack americani, e avendo questo focus, io devo fare un lavoro pubblicitario molto semplice, cioè far vedere cosa offro, e far venire la voglia alla gente di venire, quindi più di tanto io non sono un creatore puro, che deve inventarsi sempre qualcosa per attivare l'attenzione, io devo pubblicizzare il mio locale, lo posso fare in maniera creativa, ma non ho la pressione, anche perché ripeto, il mio viaggio a New York funziona anche senza di me, perché ho un'azienda, perché forniamo i servizi, la gente viene da me, per la semplice ragione che offro dei servizi buoni, non perché gli sono simpatico, pure uno che mi odia, se viene a New York e vuole fare una bella vacanza, se viene a fare tutto il Bronx, Queens e Brooklyn, perché sa che in 4-5 ore si vede Bronx, Queens e Brooklyn, che altrimenti non vedrebbe se lo perderebbe, sa che si può fare il tour del rooftop, e si passa una bella serata, conosce altre persone, sta bello tranquillo, vede dei rooftop bellissimi, sa che si fa un tour di Harlem con la Mesh Kassagosper, e si fa un'esperienza che magari da solo non farebbe, perché non saprebbe da dove iniziare, anche perché molti dicono, eh, ma chi li fai? Ragazzi, i tour li fanno tutti, noi pensiamo sempre che la gente faccia tutto da solo, ma mi dite come vi fate in 5 ore, Bronx, Queens e Brooklyn, il Bronx è grande quanto Parigi, come ve lo visitate da soli in mezza giornata? è impossibile, l'unica maniera per farlo è il tour, anche io, tipo, a volte, spesso, quando vado in un paese, in una città, vi faccio dei tour, andai in Corea del Sud, volevo visitare il confine con la Corea del Nord, e l'unica maniera, era quella, era fare il tour, quindi il tour del gruppo, alcuni dicono, no, ma io mi faccio tutto da solo, ma sicuramente un sacco di cose le puoi fare da solo, ma tantissime altre cose non le puoi fare da solo, perché se tu volessi visitare in 5 ore i Bronx, Queens e Brooklyn, sarebbe impossibile farlo in metro, sarebbe impossibile farlo con i bus pubblici, se voi pigliamo un taxi, ti costerebbe mille dollari, per andare da una parte all'altra, a vista le distanze, invece tu, vabbè, io ho messo prezzi ridicoli, vi dico la verità, infatti li alzeremo, perché noi, il tour del Bronx, Queens e Brooklyn, lo vendiamo a 59 dollari, gli altri concorrenti, che lo fanno in altre lingue, ma in italiano no, lo danno a 75, e dovremmo alzare i prezzi, prima o poi, anche perché, i nostri costi sono aumentati, è aumentata il costo della benzina, quindi immaginate, però è chiaro che, quando c'è l'anno della ripresa, io ho detto, io preferisco, visto che l'euro è anche forte, è anche debole, adesso preferisco, quest'anno, mantenere i prezzi bassi, per fare in modo che i turisti, possano venire senza sporparsi, senza, diciamo, perdere un occhio della testa, per venire, però preferisco averli, perché sto ripartendo, preferisco rinunciare al mio guadagno, ma avere i turisti, piuttosto che avere il guadagno, e avere metà dei turisti, per alzare i prezzi, quindi quest'anno, ho deciso di fare questa politica, anche se i miei costi sono aumentati, di tenere i prezzi di turla, uguali a quelli di pre, della pre pandemia, e i prezzi, io non li cambio da 5-6 anni, quindi non ho cambiato i prezzi, proprio per venire incontro ai turisti, che ripartono anche l'oro, che il dollaro è forte, quindi le cose costano di più, questa è stata la mia strategia, però ognuno fa la sua strategia, ovviamente, però capirete, con 59 dollari, ti vedi Bronx, Queens e Brooklyn, sarebbe impossibile, farlo in un altro modo, molti probabilmente lo farebbero, probabilmente aumenterò l'estate prossima, non di tanto, di un 10%, da 59 a 65, ma a me non interessa, ovviamente, guadagnare troppo, con queste cose, perché, io ci tengo, soprattutto, qual è la mia strategia, ve lo dico chiaramente, la mia strategia, è aumentare, ovviamente, l'autopravolezza, è la forza del mio viaggio a New York, perché un giorno, un domani, la mia azienda avrà un valore, se la voglio vendere, se voglio vendere anche un 30%, un 40%, non mi interessa guadagnare oggi, mi interessa che tra 5 anni, viene un fondo di investimenti, gli dico, vuoi il 30% darmi 10 milioni di dollari, e ti pigli cash 10 milioni di dollari, l'obiettivo non è prendermi lo stipendio, l'obiettivo è creare un'azienda, un marchio che abbia valore, perché il mio viaggio a New York, se vai in Italia e chiedi alle persone, su 10 persone, molti conosceranno il marchio, il mio viaggio a New York, sono riusciti a consolidare, in un paese d'Italia, un marchio nell'ambito del turismo, come lo e-booking, e il valore è quello, quando riesci a consolidare un marchio, che quel marchio è riconosciuto come brand, la gente lo associa al brand, al servizio che offri, e ha una reputazione positiva, è uscito anche un libro, di due ricercatori, se andate su Google, lo trovate, in cui mi hanno intervistato, tra l'altro nella fascetta del libro, adesso non me lo devono ancora mandare, il mio nome è messo a fianco, a quello di George Almani, perché l'hanno messo in ordine alfabetico, quindi è venuto Armani, Armenti, Alessandro Borghese, e fa TV in Italia, e io ho detto, guardate, per me, affiancare il mio nome, a quello di Armani, è un insulto, è veramente un insulto, perché io sono veramente, uno zero assoluto, se paragonato ad un gigante, o un nome storico della moda come Armani, però sai, sono tutte cose che ti aiutano, a consolidare la tua immagine, il Corriere della Sera, che mi cerca, che mi fa un articolo, un'intervista, e questo vale, questo consolida l'immagine dell'azienda, è la mia immagine personale, io se voi notate, non entro mai in polemiche, voi se googlate il mio nome, probabilmente non trovate mai grandi polemiche, su di me, scandali, cose, non faccio mai casino, perché il mio interesse, non è avere popolarità, il mio interesse, è creare un'impresa solida, ragazzi, beh, ci hanno fatto veramente una bella chiacchierata, qua c'è troppo casino, andiamo di là, perché non viene, quindi quello vi dico, utilizzate, allora ritorniamo all'argomento di prima, tanto questa chiacchierata continua ancora, utilizzate i social, per costruire una community, non per fare i pagliacci, partite dalla community, per capire che esigenza ha la community, e cosa potete offrire alla vostra community, quale prodotto fisico, o quale servizio, io ho offerto servizi turistici, ma voi potete fornire sciampi, creme, qualsiasi cosa, o aprirvi anche una pizzeria, perché no? create la community, aprite un business, utilizzate i social, per promuovere il vostro business, quando il vostro business sta crescendo, puntate molto, non tanto sul guadagno di oggi, ma sul guadagno del domani, quindi puntate sulla formazione di un team, all'avanguardia, fortissimo, il migliore che ci sia, costruitevi un team, costruitevi una reputazione positiva sul mercato, quindi dovete essere molto vicini ai clienti, per carità, ci saranno sempre coloro che si lamenteranno, ma fa parte del lavoro, sbagliare qualcosa, anche io, come tuo proprietario, ho fatto degli errori, io ricordo, qualche anno fa, vi racconto questo aneddoto, non c'erano italiani, perché la facevamo con i tedeschi, sta cosa, organizzammo una crociela di Capodanno, quindi andammo a fittare, qui sulle Srive, una barca che poteva contenere 100, 150 persone, e organizzammo una festa, era una festa, gli italiani erano pochi, forse meno di una decina, però c'erano molti tedeschi, molti inglesi, avvenne che quel Capodanno, ci fu il record di gelo a New York, la barca partì, noi ovviamente non eravamo responsabili, perché non eravamo affittato la barca, quindi non è che noi, la barca era nostra, eravamo affittata, quindi ci affidevamo a questa persona, nel bel mezzo del mare ragazzi, che succede? Se ne va l'elettricità, se ne va l'elettricità, mentre ci sono tipo meno 20 gradi a New York, questi poveri turisti, fanno un Capodanno di merda, tra virgolette, si puzzano dal freddo, su questa barca, e non si riusciva a risolvere, perché questi qua, non sapevano che fare, poi riuscivano a far venire una barca, e trenarle, io ovviamente ero mortificato, io avevo zero responsabilità, perché mi avevo affidato a questi qua, loro avevano responsabilità, però si erano trovati anche loro, in una situazione eccezionale, vabbè, ovviamente ci fu una lamentere, chiedemmo scusa, rimborsammo, facemmo di tutto, e però capita ragazzi, sono cose che nell'industria, in qualsiasi campo capita, fa parte del rischio di impresa, le cose possono andare storte, può succedere a tutti, però io per esempio, non capisco per niente, quelli là, che tipo prendono, hanno un hotel, e iniziano a trattare male i clienti, fanno i presuntuosi, ma come pensi di andare avanti, negli americani su questo, sono molto più intelligenti, a meno, se tu vieni e ti lamenti, cioè se vieni a un ristorante, e ti lamenti di qualcosa, è inutile stare lì, e mi dici questa pasta è scotta, è inutile stare lì, essere così arroganti, e stare a litigare con il cliente, non ti costa niente cambiarla, non ti costa niente dire, te la posso cambiare con qualcosa, offrire un dolce alla fine, è il dettaglio che fa la differenza, molti dovrebbero essere veramente preparati un po' meglio, secondo me, a stare in questo campo, bisognerebbe fare lezioni, perché poi il valore, ripeto, il mio valore, io non prendo soldi dai clienti, nel senso che spesso, con i soldi del cliente, io ci pago le spese, non è quello il mio obiettivo, guadagnare soldi dai clienti, noi facciamo il viaggio di gruppo dall'Italia, adesso ne facciamo uno che arriva adesso ad agosto, ne stiamo facendo uno per dicembre, dove noi abbiamo margini bassissime, non ci guadagniamo quasi niente, veramente ci guadagneremo il 10%, l'8%, perché lo facciamo? Perché è marketing per me, un gruppo che viene dall'Italia, io faccio il video per il collo, lo faccio per marketing, voi che fate il tour, avete prezzi buoni sul mercato, perché è costoso, però offriamo tanto, io quando ho fatto il mio viaggio di gruppo, non voglio fare l'avventura, voglio l'hotel qua a Times Square, 4 stelle con colazione inclusa, voglio includere nel mio viaggio di gruppo, pensate, il gruppo che viene adesso il 22 agosto, parte con Emirates, cioè io voglio che il mio gruppo abbia un'esperienza magica, non voglio che faccia a scali, o che venga con una compagnia povera, che è scadente, a me vengono con Emirates, si fanno tutti i tour, hanno i biglietti, hanno un accompagnatore H24, il gruppo ovviamente c'ha anche molto tempo libero per stare da solo, hanno tutto incluso, io ci guadagno poco, perché ovviamente non posso metterci grandi, non posso metterci un grande, non posso farlo pagare chissà quanto, perché altrimenti la gente non è che in questo periodo storico puoi spendere tanto, ci guadagno poco, ma non mi importa, per me è una spesa di marketing, una spesa grazie a quale io aumento l'autorevolezza del mio brand, nella prospettiva di dare valore al brand, perché un futuro, quando quel brand ha valore, io monetizzo attraverso l'accessione delle quote a dei fondi di investimento, è là che c'è il mio guadagno, il mio guadagno non è adesso, allora io dico una cosa, se insegnassero queste cose al liceo, se insegnassero queste cose a scuola, io tutte queste cose le ho imparate a New York, la gente saprebbe fare impresa molto meglio, la gente si pensa che il guadagno di un tuo proprietor sono i soldi dei clienti, ma no, là non ci guadagno niente, quei soldi ti servono a mantenere l'impresa, a pagarci le tue spese, il cliente fa un grande affare quando viene dal tuo tuo proprietor, perché si è trovato un tuo proprietor che ha come obiettivo creare un brand solido, non pigliarsi i soldi da te, è là che c'è la distanza, e oggi vi abbiamo dato anche un po' di lezioni di marketing, farvi capire, quindi ripeto, quando è creato il brand, non pensate che voi dovete guadagnare oggi, voi dovete guadagnare domani, voi dovete essere competitivi, dovete riuscire o a fare prezzi buoni, i prezzi ovviamente là dovete decidere voi come posizionarvi su un mercato, se fare concorrenza sui prezzi, se invece posizionarli con un pubblico medio alto, perché poi uno pensa, un atto errore che si fanno le imprese, o gli imprenditori, è pensare che la concorrenza avvenga solo sul prezzo, del tipo, chi ha il prezzo migliore vince, ragazzi, questo è un errore assoluto, ci sono casi in cui il prezzo è una leve importante, dipende dal tipo di impresa, ma ci sono altri casi, dove il prezzo non è una leve importante, pensate a coloro che magari scelgono di comprarsi una Gucci, e non una Michael Kors, c'è gente che non vada al prezzo più basso, magari vada invece a qualcosa di diverso, e tu gli devi dare qualcosa di diverso, quindi tu puoi deciderti dove posizionarti nel mercato, non ti devi posizionare per forza sul prezzo basso, ti puoi posizionare anche, dipende dal modello di business, anche su un prezzo più alto, un'esperienza diversa, essere percepiti dal consumatore come un qualcosa di maggiore qualità, che quindi è disposto a pagare di più, oppure potete fare una cosa, magari avete un prezzo più alto del vostro competitor, però grazie ai margini di quel prezzo, avete più soldi per fare marketing, e quindi acquisite più clienti, allora il competitor dice, ma perché questo si offre lo stesso prodotto mio, a prezzi più alti, a più clienti, perché è una strategia di impresa diversa, ha deciso di tenere i prezzi più alti, ma avere più soldi per il marketing, quindi ecco, non c'è quando si fa impresa una strategia unica, dipende chiaramente dalle persone, c'è chi vuole utilizzare come marketing, mass media tradizionali, chi vuole utilizzare i social, chi vuole decidere addirittura di utilizzare solo i passaparole, creare un brand quasi semi nascosto, però la cosa importante secondo me è sempre quella, qualsiasi sia la strategia che usate di marketing per la vostra impresa, l'importante è soprattutto dare valore a quel brand, punto, e tenere possibilmente i conti a posto, qua ci sono varie teorie, c'è chi dice che non importa i conti a posto, chi dice che i conti non bastano, perché puoi anche indebitarti, però secondo me rischi di perdere tutto ragazzi, quando i conti di un'azienda non sono a posto, magari ti va bene, che riesci comunque a vendere, a fare una exit, per accavartela, però è più difficile ragazzi, purtroppo è la verità, oppure bisogna essere dei maghi, molto inseriti, ma quando parti da nulla, la tua forza è il brand, e avere dei conti a posto, un modello di business che funziona, a meno che non sei in uno di quegli ambiti ultramoderni, dove si fanno prototipi, dove si investe, tipo nella robotica, quello è un ambito in cui magari non contano, è normale stare per anni ad investire e investire, come ha fatto Tesla, senza cavare nulla dal buco, però la prospettiva è che poi un giorno, ovviamente, avrai comunque dei guadagni, quindi quello però è un altro tipo di business, ad alto valore innovativo, in cui è fisiologico all'inizio investire tanto, per raggiungere un giorno, un obiettivo, che sia ovviamente, che vi faccia avere successo, beh non voglio diventare troppo tecnico adesso, per quanto so che queste passeggiate vi piacciono, perché vedete davanti a voi, la bellezza del Radio CTO, spero solamente che questi video, in un modo o nell'altro, siano riusciti, diciamo così, a darvi, boh non lo so, a darvi qualche idea, ecco io vorrei, io l'ho detto, sono stato invitato al Controcorrente su Rete4, ho detto guardate, i giovani italiani, vivono in un ambiente, in cui ti scoraggiano a fare impresa, ti scoraggiano perché ti dicono, la gente, l'Italia è morta, che fai fare impresa in Italia, lo Stato si mangia tutto, è meglio fare il dipendente, io dico, la rivoluzione, tra virgolette, deve essere di tipo anche culturale, cioè bisogna convincere i giovani, ma anche gli anziani, ma chiunque, a dare il massimo di sé, perché ragazzi, l'Italia come società, sarebbe molto migliore, se avessimo un sistema, in cui siamo spinti, ognuno di noi, a dare il massimo, dove lo sforzo è premiato, se lo sforzo non è premiato, se l'idea è che se è successo, nella vita, se un farabutto, e lo Stato ti dobbia togliere tutto, la gente non si impegna, perciò io non vedo altre, cioè io non credo che ci siano altre alternative, bisogna spingere la nostra società all'eccellenza, cioè la società ideale, è quella che fa in modo, che tutti gli individui, diano il massimo di sé, non che tutti diventano ricchi, perché dare il massimo, può significare anche dare il massimo, nel tuo lavoro, anche il massimo come postino, ma se un postino svogliato, che fa male il suo lavoro, va peggio, vanno peggio le cose, quindi una società in cui tutti sono invogliati a dare il massimo, quindi l'imprenditore invogliato a dare di più, il lavoratore, è una società che non può che andare meglio, se tutti invece sono sconsolati, depressi, tutto è negativo, la burocrazia ti mette il bastone tra le ruote, non capisci mai se è una cosa illegale o illegale, la puoi fare, ma dove vuoi andare, è ovvio che poi ti perdi per strada, un paese si deprime, allora questo è Avla, e vedete, now hiring all position, sapete che vuol dire, che stanno ovviamente, in un ristorante importante, stanno assumendo, vi dico che, ormai trovare lavoro, come camminare a New York, è la cosa più facile al mondo, questo è il Radio City Hall, quando verrete, vi potrete vedere le rocchezze, non so quanto tempo, sta andando avanti questa diretta, ma io ho deciso così, di farla all'infinito, per quale motivo? Perché sto camminando, ragazzi, quindi più dura la diretta, vedete, io ho camminato un'ora e quindici minuti, passo non veloce, io non sono un camminatore veloce, però, se stavo da solo, senza diretta, magari questa camminata, mi sarebbe pesata tanto, no? E invece adesso, mi è sembrata leggera, non mi sono neanche accorto, vado a casa, e dormo meglio, ovviamente, molti di voi, vedevano i video su YouTube, altri lo vedevano su Facebook, perché io questo video, di un'ora, quando sarà, un'ora e mezza, la divido, tipo in piccoli video, poi da 10-15 minuti, li metto sul mio canale, più armenti Facebook, quello personale, non il mio ragione io, quindi c'è un pubblico, che lo vede su Facebook, e dice, ma come parlate un'ora, se il video dura solo 10 minuti, eh, però ragazzi, anche solo 10 minuti, oh, sono passati un'ora e 15, ma lo continuo, perché? Perché chi l'ha detto, che non rimaniate là, guarda un video per oltre un'ora e 15, no? Chi l'ha detto, che solo i video brevi, ripeto, questi sono video, che danno, un valore aggiunto, fortissimo, perché quando l'avete finito di vedere, intanzitutto, se siete a casa, lo mettete in tv, vi vedete New York in 4K di notte, e non è una cosa negativa, anzi, è una cosa piacevole, poi avete ascoltato comunque, le mie parole, che sono le parole di una persona, che ha 40 anni, quasi 43, che vive da 11 anni a New York, che ha fatto tante esperienze di vita, che ha fondato un'impresa, partendo dal basso, la mia esperienza di vita, è tale, per cui sicuramente, posso dire cose, con cui concordate o meno, ma con cui potete, ma di cui dovete, con cui dovete fare i conti, anche solo per dire, non sono d'accordo, però ascoltate un parere, che io chiamo, un parere qualificato, perché, è molto diverso, parlare a vanvera, delle cose, senza averle vissute, in prima persona, e magari uno dall'Italia, vi vuole spiegare l'America, dopo esserci stato, solo qualche giorno, come turista, rispetto a uno, che veramente, in questa terra, ha sudato, ha costruito, si è scontrato, contro, diciamo, tutte le problematiche quotidiane, perché io sono in 10 anni, che vivo a New York, e il mio parere, può essere interessante, io ho fondato un'impresa, un marchio, mi ha intervistato, il Corriere della Sera, mi ha dedicato una pagina, pochi giorni fa, e non sono tanti, gli imprenditori, a cui il Corriere della Sera, dedica una pagina, di intervista intera, te la dedica, magari, se vai in carcere, se vai in galera, se crei qualcosa, fai casini, ma non per elogiarti, è molto raro, lo fanno, quando la tua storia, è di ispirazione, a qualcun altro, neanche pagare, cioè, uno dice, ma se paghi, ma no, ma il Corriere, figura, quelli sono forti, se no, tutti gli imprenditori, pagandolo, farebbero, ma è impossibile, devono notarti loro, perché credono, che la tua storia, contenga un messaggio interessante, un messaggio di speranza, quindi capito, il mio è un parere qualificato, e io, nella vita, ascolto molto, i pareri di persone, che ne sanno, più di me, non perché poi, faccio tutto quello, che dicono, concordo, ma perché, se io, ascolto un parere qualificato, anche per esprimere, un mio disaccordo, io sono costretto, ad un ragionamento, più profondo, la bellezza, della dialettica, dello scontro dialettico, è che, quanto ti confronti, con gente, più in gamba di te, che ne sa più di te, che ha più esperienza di te, per affermare le tue ragioni, se sei costretto, ad alzare, il tuo legno dialettico, a ricercare, più fatti, che siano a tuo favore, quindi, migliori come persona, perché, alzando lo scontro dialettico, dovendo trovare, proprie a tuo favore, per contrastare, uno pianone qualificato, tu, aumenti, il tuo valore intellettuale, se mi devo mettere, a discutere, con una persona, che non ne sa niente, il cui pensiero, è senza fondamento, è troppo facile, no, contrastarlo, vi posso dire, che però, quando un parere qualificato, è molto difficile, essere proprio, totalmente in disaccordo, perché, è un parere serio, importante, che magari, magari si può, ecco, limare quel parere, si può cercare, di mettere in risalto, altri punti, che sono stati trascurati, da quella persona, voi potete dire, sì, Piero, hai parlato bene del brand, ma ti sei dimenticato, di dire questo, 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 oppure hai dato troppo importanza, a questo aspetto, troppo poco aspetto, a questo, magari in questo caso, ti sei contraddetto, la dialettica è bella, perché uno confrontandosi, con persone qualificate, aumenti il suo livello intellettuale, quando sono andato a parlare, a controcorrente, davanti a me, avevo una platea, se andate, scrivete controcorrente, Piero Almenti, vedete uno estratto, controcorrente, la trasmissione, sul rete 4, del 17 agosto, io avevo una platea, di politici, nessuno è riuscito, a contraddirmi, nessuno è riuscito, a dire che non avessi ragione, mi hanno ascoltato in silenzio, voi sapete, che in queste trasmissioni, litigano un po', come galli nel pollaio, però, io lo dico davvero, era molto difficile, contrastare me, perché la mia, mentre loro parlavano, sai, i politici parlano un po', parlano di tutto, un po' a caso, e litigano, però, avevi denanzio a te, uno che parlava, con cognizione di fatti, uno che viveva qua, parlava, dei giovani, avendo fatto, una certa esperienza di vita, e come fai a contrastarlo, non c'hai, gli strumenti intellettuali, né le prove, a tuo favore, per poter dire, no, qua, non hai ragione, perché, perché avevo alzato così tanto, il livello del dibattito, con la mia esperienza personale, che gli altri, se mi avessero attaccato, dato che non sono stupidi, avrebbero fatto, si sentivano, se io questo l'attacco, vengo percepito negativamente, da pubblico, perché non ho grandi elementi, per attaccarlo, bene amici, d'altronde, diciamo, la più grande, quando vorrete, quando io vi auguro, diventerete personaggi pubblici, vi intervvisteranno, una delle cose, che dovete fare, prima di un'intervista, è cercare di capire, se l'intervistatore, o le metterti in difficoltà, quali punti può toccare, cioè voi, dovete, prima di andare in un'intervista, o uno scontro, anche da un giudico, dovete lavorare molto, sui vostri punti deboli, e cercare, delle argomentazioni, che possano, chiaramente, trasformare, in punti deboli, in punti a vostro vantaggio, perché sulle cose, in cui siete, è come una partita di scacchi, uno scontro dialettico, sulle cose, su cui siete forti, si deve preoccupare l'avversario, ma tutti abbiamo, dei punti deboli, noi diciamo una cosa, magari l'avversario, noi dobbiamo, pensare, quando affermiamo una cosa, cosa l'altro, potrebbe dirsi, per contrastarci, e pensare anche, a cosa dobbiamo rispondere noi, quindi bisogna, sempre essere preparati, quando si fa uno scontro, non bisogna mai andare all'avventura, bisogna pensare, a come rispondere, alle cose, che dirà, diciamo, l'avversario, e quindi, prepararsi bene, e questa è l'unica cosa, perché, altrimenti, se non vi preparate bene, fate la figura, delle persone superficiali, e l'avversario vince, va bene, cari amici miei, mamma, che bella chiacchierata, ci siamo fatti, questa è proprio, una di quelle chiacchierate, che durano, questa è proprio, una sfida, ci ho veramente, questa chiacchierata, vi sfido ad arrivare alla fine, devo anche comprare, la carta igienica, perché l'ho finito, io non sono convinto, di arrivare alla fine, perché questa è veramente lunga, però, vi ripeto, abbiamo parlato di tutto, quindi, neanche saprei dire, di cosa abbiamo parlato, no, se c'è un solo argomento, se ce ne sono tanti, abbiamo parlato, veramente di tutto, anche perché, insomma, è un'ora e 22, che parlo, ed è un monologo, è un monologo così lungo, è un monologo, importantissimo, continuiamo, perché tanto devo arrivare, almeno a casa, o vicino casa, perché, tanto vale che, sto da qua, ci vogliono 5 minuti, ho fatto una passeggiatona, pazzesca, però, insomma, stanotte dormo bene, magari, bevo anche una bibita, fresca, per completare la cosa, un'altra delle domande, che spesso mi fate, è, Piero, ma ti manca l'Italia? Ragazzi, no, ve lo voglio dire, con sincerità, però, più passi i tempi, e più un po', mi manca la mia famiglia, nel senso, che poi mi rendo conto, che i miei genitori, comunque, hanno una certa età, io ho 40 anni, non è che abbiamo, un tempo infinito, da passare assieme, quindi, magari, anche ciò, la mia sorella, mio cognato, i miei nipotini, quindi, rispetto al passato, in cui ero, ovviamente, più concentrato a realizzarmi, a livello professionale, perché, senza la realizzazione professionale, non hai, secondo me, la possibilità, di avere tutto il tempo, che vuoi, quindi, in passato, magari, ero più concentrato, sulla mia realizzazione professionale, adesso, che bene o mai, mi sento abbastanza, realizzato, però, ammetto, premesso, che io dico questo, poi, dopo domani, succede qualcosa, e parto da zero, non si sa mai, nella vita, allora, mi piace più, magari, tornare in Italia, più spesso, passare più tempo, con i miei genitori, quello che gli americani, definiscono, quality time, cioè, un tempo di qualità, quindi, più che l'Italia, in sé per sé, è che uno, sono abituato a New York, mi fa piacere venire in Italia, però sono abituato a New York, però, ho capito, venire in Italia, per incontrare la famiglia, incontrare qualche amico d'infanzia, con cui si ha qualche ricordo in comune, andare in un bel ristorante, e mangiare, boh, del pesce fresco, ecco, queste cose, mi mancano, le vorrei fare più spesso, poi, amici, voglio conoscere il mondo, cioè, mi piace viaggiare, conoscere i nuovi posti, se andate su Facebook, vedete, che sono stato da poco, a fine luglio, ad Anguilla, Anguilla, è una bellissima isola di Carabie, con delle acque stupende, è una isola che gli italiani, fondamentalmente, ignorano, ma di una bellezza senza senso, io dico sempre, non voglio mettermi a discutere, se male in Italia è bello o no, però c'è una differenza sostanziale, soprattutto ad agosto, il mare italiano è veramente troppo affollato, e io personalmente, arrivato a quest'età, amo andare in un posto, dove c'è poca gente, quando sei ragazzo, ovviamente cerchi bordello, come si dice da me, cioè cerchi di andare in posto, dove ci sono altri ragazzi, stai tutti assieme, fai casino, stile Ibiza o Mykonos, ma io quando sono andato in Grecia, a Mykonos c'era troppa gente l'anno scorso, sono stato male, vi dico la verità, troppa gente, troppa gente, ci erano amaffollati, mi è piaciuta molto di più gli os, sono andato in questo hotel, che si chiama Calilo, andato a vedere le foto, che ho creato l'era, avevo praticamente in pieno agosto, la spiaggia tutta per me, la spiaggia di un livello altissimo, sono stati in santa pace, quindi sono arrivato in una fase della mia vita, dove quando vado in un posto, cerco anche un po' di esclusività, quindi sono andato ad Anguilla, e mi sono trovato questa baia, Mondays Bay si chiama, con questo hotel, con questa acqua, che veramente era la fine del mondo, di un colore verde pazzesco, sono stato benissimo, ho pagato parecchi soldi, però sai, quando vai in un hotel e paghi parecchi soldi, non lo fai per l'hotel in sé, lo fai per l'esclusività, cioè più paghi il prezzo, è una forte barriera d'entrata, quindi più paghi, più probabilmente in un ambiente, dove c'è meno gente, magari ci sono meno bambini, c'è meno casino, trovi un po' più tranquillità, il prezzo è una forte barriera d'entrata, in questi casi, sono stato bene ad Anguilla, se vi capita andate a visitarli, vabbè voi vi direte che ci vado a fare ad Anguilla, perché noi italiani, abbiamo tante opzioni fuori dall'Italia, se vogliamo dell'acqua bella, possiamo andare alle Maldive, a Zanzi, a Maruicius, a Le Seychelles, possiamo andare a Bora Bora, magari ci sono anche più voli, tu proprio prevedo che organizzano più viaggi, magari Anguilla è un po' più isolata, però a me è piaciuta ragazzi, se vi capita, andate perché è veramente, veramente bella, Anguilla e San Martino, poi pian piano voglio visitarle un po' tutte quelle isole, uno dei viaggi che più mi è piaciuto, o vi dico la verità è stato in Costa Rica, in Costa Rica amici miei me lo sono proprio goduto, amici allora, stiamo arrivando verso la fine di questo video, la parola da dire questa volta è, Argonauti, dite Argonauti, mi è venuto in mente, perché l'ho letta qua, quindi se dite Argonauti nel commento, saprò che l'avete ascoltati fino alla fine, e vi inviterei questa volta nei commenti, se possibile, a fare delle riflessioni profonde, di solito nel commento, uno magari scrive due o tre parole, tipo bravo, sei stato bravo, ti seguo sempre, e mi fa piacere, io vi ringrazio, ogni commento mi spinge, a fare meglio, però i commenti su YouTube, io li leggo veramente tutti, perché devo dire che la qualità del commento su YouTube, è migliore su questi video, se vado su Facebook, ci sono sole offese, gente arrabbiata con la vita, commenti di una qualità scadente, ma su YouTube, la gente, se si vede un video del genere, magari, gli viene in voglia di interlocuirli con me, con quella persona, quindi se magari di questo che vi ho detto io, ci sono degli aspetti che vi hanno colpito, scrivetemelo nei commenti, però scrivetelo argomentando, perché io lo leggo, e apprezzo se qualcuno è un bravo argomentatore, argomenta bene, anche se non siete d'accordo con me su un qualche punto, ditemelo, però argomentate, perché voglio sapere, perché magari io vi do dei feedback a voi, ma voi potete anche darmi dei feedback a me, e possiamo creare questa sorta di colloquio, in cui ragioniamo di tante cose, io ho parlato di tanti argomenti in questo video, veramente tanti, quindi se c'è qualcosa che vi ha colpito, qualcosa su cui vorreste approfondire, anche raccontarmi una vostra esperienza nei commenti, fatelo, perché essendo meno, perché su Facebook, io dico Facebook è diventato veramente, non dico, vabbè, cioè i commenti sono tutti insulti, però è quello, la natura di Facebook è quella, YouTube invece no, YouTube devo dire che c'è qualche insulto, ma la gente, un video del genere, ha voglia di dialogare, apriamo un canale di dialogo, questo per voi è come un podcast, è stato un monologo di un'ora e mezza, magari lo posso fare a teatro un giorno, mi sono sgolato, ho camminato e vorrei, ovviamente vi mostro anche il mio viso, perché non mi conoscesse, sono primarmente fondatore del mio viaggio a New York, da 11 anni a New York, la parola l'ho detto un attimo fa, se andate indietro la vedete, la dite nei commenti, e comunque commentate, ciao, wow!